Gli igroporus marzuolus trovati stamattina, che gentilmente l'agricchismo e le roccacce ci ha tramutato, come si dice, tramutato in crostino agli igroporus marzuolus. Buon assaggio a tutti! Buon assaggio a tutti! Buono! 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 Guarda, il cacchio fermante mi viene qua! Ma viene! Da rivolaggio! Buono! 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 Lì hanno battuto le mani più forte, battete le mani! Buono! 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 che ha detto che non avevamo mangiato. Ma se vanno una settimana anche i punti. No, filmate, non vi posso dire il sapore, però dicono tutti che sono buoni, buon appetito a tutti. Il grado frutto è maggiore. Infine, adesso ci sono retto il pennello.